Benvenuti a tutti e grazie per questa straordinaria partecipazione, nonostante il momento di difficoltà e di preoccupazione che condiziona le nostre volontà di partecipazione e di socializzazione. Un ringraziamento particolare al CAI, al CAI nazionale, al CAI regionale e anche alla sezione CAI diamatrice, di cui poi parlerò e evidenzierò tante potenzialità e tanti contributi. Questa è una giornata che contribuisce a ridestare l'attenzione nei confronti di questi territori. Territori sicuramente oggi mortificati dal sisma distruttivo del 2016, ma territori comunque di straordinario interesse paesaggistico ed ambientale che già prima del terremoto erano attenzionati da tutti gli appassionati della montagna, ma anche da tutti gli italiani. Noi negli ultimi 15 anni avevamo visto crescere un'attenzione turistica nei confronti di queste nostre comunità e di questi nostri territori. Un'attenzione turistica che si fondava su diversi elementi. Il primo, forse quello principale, quello più suggestivo, più bello, che colpiva tutti, era la bellezza del paesaggio, la bellezza di queste montagne e la ricchezza anche di questi luoghi, fatti di boschi, di valli, di cascate, di corsi d'acqua numerosi e straordinariamente suggestivi da visitare. E la sezione CAI di Amatrice in questa direzione ha dato un contributo importante. Far conoscere la bellezza di un territorio, che è altra cosa da vederlo. Prima venivano qui in vacanza, ma le persone che sceglievano Amatrice venivano a vedere la bellezza di questo paesaggio. Non venivano a goderlo. Il CAI e altre associazioni locali hanno dato la possibilità di invece conoscere e di godere la bellezza della montagna. Che altra cosa da vederla come paesaggio dalla finestra quando ci si alza al mattino. Devo dire che il Senzio d'Italia contribuisce anche, mentre sentivo il coro ho preso degli appunti velocemente, perché mi sembrava giusto evidenziare alcuni aspetti di questa iniziativa, contribuisce anche, secondo me, non solo a me a valorizzare questi territori della montagna italiana, dalle Alpi all'Appennino. Ma anche a mettere insieme, a mettere in rete questi territori. Se possiamo dire, mentre tutta la comunicazione e la viabilità nazionale corre dalla montagna verso il fondo valle, verso la pianura, il Senzio d'Italia ribalta questa logica e mettere in rete invece la montagna, le valli, in maniera trasversale. Ed è questa un'esigenza che dobbiamo soddisfare, fondamentale per salvare i territori di montagna. Perché se continuiamo a pensare che la montagna debba in qualche modo riferirsi a un contesto di comprensorio in cui il fondo valle inevitabilmente risucchia i territori che sono invece nella montagna vera, noi rischiamo di non soddisfare quella esigenza che abbiamo tutti di salvare i territori di montagna. Per salvare i territori di montagna bisogna fare rete, bisogna fare in modo che in questi comuni di montagna vera ci sia la possibilità di gestire i servizi fondamentali insieme. Ognuno non riuscirebbe a tenere i servizi nel proprio comune, ma metterli insieme, mettere in rete questi servizi diventa l'unica possibilità di salvarli e di garantire anche nei territori montani quell'effetto città che è dato dal fatto che le famiglie, le persone, i cittadini, i giovani possono trovare e usufruire nel loro ambito territoriale i servizi che hanno anche la possibilità di usufruire nelle grandi città. Ed è un po' una logica che dobbiamo introdurre anche dal punto di vista del sistema istituzionale e organizzativo del nostro Paese. Oltre che richiamare l'attenzione sul fatto che bisogna avere più attenzione alla viabilità che mette in comunicazione e collega le valli che dà la possibilità di costruire un vero rapporto agevole tra le popolazioni che vivono in questi comuni montani. Faccio un esempio per capirci. Noi siamo tra Umbria, Marche e Abruzzo, siamo quella lingua del Lazio che si insinua tra queste regioni. Noi abbiamo come comuni limitrofi Campotosto, Montreale, Capitignano, Norcia, Arquata del Tronto, Marche, Norcia, Umbria, Campotosto, Montreale, Capitignano, Abruzzo. E poi ancora dopo Arquata del Tronto abbiamo tutta la fascia dei comuni che entra nei Sibillini. Quindi è un comprensorio omogeneo dal punto di vista territoriale e anche dal punto di vista economico e sociale. Dobbiamo avere la capacità di capire che se vogliamo tenere le popolazioni in montagna noi a questi comprensori dobbiamo fare riferimento, dobbiamo favorire la comunicazione, perché la comunicazione dà la possibilità di tenere le scuole, di tenere le strutture sanitarie in questi territori e magari anche di tenere le strutture sportive di tempo libero che sono fondamentali. Dico l'ultima cosa perché capisco che sto utilizzando troppo il tempo che sta offrendo questa iniziativa straordinaria del CAI. È quella di suscitare così una riflessione anche dal punto di vista dell'evoluzione istituzionale. Noi abbiamo oggi un superimento delle comunità montane. Ce l'abbiamo non perché qualcuno a un certo punto ha capito o gli è venuto in mente che era meglio fare un'organizzazione diversa, ma ce l'abbiamo perché nei fatti i comuni che ne facevano parte comunque hanno evidenziato delle carenze, delle sofferenze, delle difficoltà. e si sta lavorando sulla riproposizione di un livello organizzativo istituzionale diverso, ma che a mio avviso rischia di fondarsi sugli stessi elementi costitutivi delle comunità montane. Cioè territori innanzitutto scelti per legge e non invece frutto di un ragionamento e di una sensibilità e di un'attenzione delle comunità locali. Spesso queste aggregazioni stabilite per legge rispondono a quella logica che dicevo prima. Si va dal fondo valle fino alla montagna. E questo ovviamente, ho messo in evidenza, non funziona. Non funziona perché sono condizioni logistiche, climatiche, anche economiche, diverse. Io sono convinto, e lo pongo alla riflessione, so che oggi c'è qui, credo, il Presidente dell'UNCEM, che invece bisogna pensare a un modello diverso in cui i servizi fondamentali si mettono insieme, ma si mettono insieme su base volontaria. Noi abbiamo già delle esperienze in Italia, ma anche da noi, che si stanno realizzando in questo senso. Noi abbiamo già fatto delle convenzioni tra comuni, con Posta, con Borbona, stiamo lavorando con una convenzione con i comuni del versante abruzzese. Cioè, questa secondo me è una garanzia che noi costruiamo un livello organizzativo dal punto di vista istituzionale, non sulla carta, ma sulla base di esigenze vere e di anche, probabilmente, condizioni comuni che garantiscono che questi livelli organizzativi possano funzionare. Altrimenti mettiamo su un altro modo di aggregare, ma sempre in maniera astratta e non rispondente alle esigenze reali delle popolazioni di montagna. Grazie, ovviamente, per l'opportunità che mi avete dato di introdurre anche questi momenti di riflessione diversi dalla giornata, ma so che nel corso della giornata ci sarà ampio margine per illustrare la valenza di questo sentiero e soprattutto anche l'importanza di quest'azione che viene svolta dal CAI e dalla sezione locale per la valorizzazione del territorio. Devo dire che la sezione locale ha avuto una grande progettualità, una progettualità straordinaria che non ci possiamo permettere di perdere e io dico che le associazioni sono la ricchezza del territorio. Il Comune ovviamente deve avere la capacità di metterle in rete, di utilizzare tutte queste risorse che vengono messe in campo, ma devo dire che noi abbiamo ben presente che la progettualità della sezione locale del CAI dovrà costituire un contributo importante nel progetto di valorizzazione turistica del nostro comprensorio che stiamo elaborando. Grazie a tutti per l'attenzione.